Video di Poliandri che con Danny la stessa giornata del 22 quando Dio mi ha lasciato nella macchina a girare con la comuna centrifuga a 60 gradi per capi delicati faceva la sua di intervista come detrattore o qualcuno che aveva comunque detto qualcosa diciamo tra parentesi contro a Danny Lazzarini avrei dovuto lì essere 5 ore prima di te ma Dio mi ha fatto in modo che noi non ci siamo potuti incontrare caro il mio domingo cambiare un po' il tempo, sorridere di più quando lo dico oppure smorzare subito con battuta sugli africani ovviamente una battuta un saluto a tutta l'Africa per far subito capire se tu non hai una comunicazione chiara con i ragazzi a casa tutto può essere frainteso invece una semplice battuta a fine tipo Danny la tua military è veramente brutta salutiamo Danny a casa che comunque guarda tutti i nostri video ho un grandissimo amico continuiamo ho fatto una cosa del genere nel video della military pressa alla fine c'era anche un contraddittorio ho messo Marco Pt che è un luminare della military e lui ti difendeva tutto il tempo quindi era perfetto ok lasciamo stare perché come ti ho detto tu l'hai visto no però non è un problema perché io sono contento ti ho detto ti ho messo sulla white list tu puoi fare qualsiasi cosa perché so io ti ho capito però non è più senso che faccio le reaction se ce l'ho qui in carne e ossa verrò qui tutte le volte a fare le critiche a sto punto non ci allarghiamo domingo ho visto il video per quanto riguarda me è stata la più grande figura di merda che potevi fare e hai tirato fuori tutte le tue bellissime qualità e il punto tuo di ogni frame che io ho visto era solo uno il sottoscritto ma chissà perché tutta questa favore e tutto questo odio chissà se fossi stato lì e avessi capito che magari dovevi passare lì più tardi ti avrei aspettato perché ho una tremenda voglia di conoscerti per capire se ci sei o se tu ci fai per quanto riguarda me il fatto che tu voglia tagliarmi le ali e dare consigli in modo che altri influencer più grandi possano fare o non fare la mia fortuna chiusa la fa da solo un uomo la fortuna non ti fa onore ma guardiamo qualche pezzo loro cazzo di castello io non posso fare niente allora se non fai video con me lo faccio in qualche altro modo no? è così che funziona non è un problema questo il problema è che se i ragazzi a casa ti accusano di razzismo il tuo modo di comunicare fa schifo non sai comunicare allora non è possibile che un ragazzo di 18 anni non può vedere razzismo allora se quel video fosse razzista sarebbe stata arrivata una segnalazione per razzismo ho subito più violenza dal video della panca di scheraggi che da quello di Noa Semota lo stesso Noa gli ho chiesto scuse in privato se ti sei sentito piccato non mi ha cagato di pezza è andato a sfogarsi con altri con la scusa eh razzismo però ci sono anche come si chiamano i paladini dei neri ci sono anche sono i bianchi che pur no ma quello non mi interessa il fatto è vedi adesso hai detto che hai provato a chiedere scusa a questo Noa e lui ha detto eh ma lui non l'ha detto hai fatto passare che io sono un cattivo è vero di non aver estrapolato delle parti e come posso dire a cazzo come dice di solito Danny ma penso di aver preso uno spaccato e adesso che tu sei il re della menzogna è un pensiero mio poi se ce l'hanno anche altre persone vedo non è un grosso problema per me io non ti ho attaccato da due anni io ti ho conosciuto quando tu e io avevo 300 follower minacciassi di togliermi la mia macchinina con una querela io non ho avuto mai querele da callà ne ho avuto solo uno da raponi che dopo aver venduto qualche cosa che non si capisce ancora oggi che cos'è voleva del danaro per un mancato introito e per avergli dato la parola attaccapanni non sono uno che straccia le querele perché se ne frega delle persone giunga presto perché mi piace chiarire i toni sono stati un po' cesi un po' no ma nel rispetto ma sei d'accordo che un personaggio grosso non dovrebbe rispondere alle provocazioni di un pesce piccolo perché il pesce piccolo male che vada ci guadagna sempre non sei d'accordo? c'è un range per cui a me c'è un canale non voglio citare il nome forse lo conosci è un tizio che insomma questo qua sono due anni che mi offende pesantemente ma proprio offende è un po' come una punza di schiatura come tu magari con te prima o poi dovrò rispondere ho calcolato strategicamente che se rispondo a uno come lui nel ben che vada guadagna follower nel mal che vada comunque quindi tanto vale ignorarlo la cosa peggiore che puoi fare a una persona ecocentrica è ignorarlo un provocatore non va non feed the troll non dovresti essere qua parla ancora 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 di me che brutta l'ossessione che brutta la paura a parte che dare consigli a un'altra persona a casa sua è un po' una cosa allucinante ma è incredibile come durante tutto il video non fa altro che parla di me in 10.000 modi differenti con la storia di cattivissimi con la quale io mi spiegherò poi con Danny è andata molto differentemente io con Danny non ho avuto nulla ho solo espresso mio parere su un paio di spocchiate in mezzo a qualche cosa per il fatto che comunque il segno dell'ombrello non è stato carino mai ho toccato il discorso tecnico avendo a che fare col fitness perché bisogna ammettere che comunque uno dei pochi fisici perché bisogna anche vedere quello che si porta su se stesso non è vero che l'allenatore di calcio è come l'allenatore di bodybuilding se ti posso dare un consiglio e lo conosco questo personaggio non ti voglio dire a te cosa devi fare ma se ti posso dare un consiglio è un boomerang se lo fai non invitare questo personaggio Biasci ha fatto una live con lui e si è preso del pagliaccio ha fatto una figura di merda storica chi? Biasci ha fatto una live con questo soggetto perché gli hanno caldamente consigliato non sapeva in che cazzo di merda si stava trattando quel è stato il punto più basso della tua storia parliamone dopo rimaniamo su di noi sì sì era un consiglio che ti dopo dopo ne riparliamo volentieri io direi quanto abbiamo fatto regista? parla ancora 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 di me che brutta l'ossessione che brutta la paura a parte che dare consigli a un'altra persona a casa sua è un po' una cosa allucinante ma è incredibile come durante tutto il video non fa altro che parla di me in 10.000 modi differenti la torapone e lui si strappa le ore davanti a tutti e non è neanche farci un video contro perché lui è talmente meno mato che non capisce un cazzo e ti vincere a dire che ti ha chiamato al telefono quindi se ti posso dare un consiglio e lo conosco questo personaggio non ti voglio dire a te cosa devi fare ma se ti posso dare un consiglio è un boomerang se lo fai non invitare questo personaggio Biasci ha fatto una live con lui e si è preso del pagliaccio ha fatto una figura di merda storica chi? Biasci ha fatto una live con questo soggetto perché gli hanno caldamente consigliato non sapeva in che cazzo di merda si stava trattando e quel è stato il punto più basso della tua storia parliamone dopo rimaniamo su di noi sì sì è un consiglio che ti dopo dopo ne riparliamo volentieri io direi quanto abbiamo fatto regista? allora un'ora e quattro minuti cioè questa è follia chiudiamo beh lo sono continuare no lo so ma è troppo per i ragazzi solito figlio di una donna indegna che ha fatto una brutta serata con una squadra di calcio imbottita di Viagra la live con Biasci che è sotto il canale Instagram non è stata esattamente come l'avevi descritta tu ed è lì per cui assolutamente non mancherai mai di rispetto a nessuno il numero mi è stato dato e ho contattato Biasci di persona che ha scelto di fare la live con me nessuno ha caldamente raccomandato nulla nella live si evince alla grande il fatto che Biasci sia parecchio confuso non bisogna confondere uno che ha 100.000 iscritti come uno che abbia la verità in bocca tantomeno una persona che è molto confusa e che ha comunque un passato di non bodybuilding e di non sport ma che usa le linee guida andatela, vatela, rivedere la mia soddisfazione caro il mio personaggio che non ha fatto altro che parla del sottoscritto per tutto il video e che io avrei dovuto essere ma Dio probabilmente ha avuto degli altri progetti penso così lì prima di te ed è questa una soddisfazione e mi piace pensare che uno stronzetto con un canale così piccolo abbia comunque una voce così forte da poter comunque chiamare l'attenzione di una persona che è sopra la montagna per quanto riguarda il discorso industrial-economico perché questo è questo si parla però insomma mai giudicato per un discorso di competenze che per la sua età giovane insomma non posso dire nulla ma Domingo persona corretta è come dire mettere Belzebù e Cristo nella stessa frase non ci sta che è il re della menzogna se è dell'opportunismo comunque cercheremo di fare anche un video su Youtube perché questo è su Youtube e la sfortuna ha voluto che io non sia stato lì totore prima col mio sommo rammarico anche perché ho da spiegare un sacco di cose compresa la storia di cattivissimi e tutto l'inganno che c'è stato sotto poi per il resto non rimangio nulla di quello che ho detto perché ho detto quello che pensavo magari è stata una brutta giornata di Danny magari anche la mia per quanto riguarda il fitness e Theo Trainer è un altro discorso e lì lui mangia così ha un'industria così ed è giusto che comunque sia lì non fa del male a nessuno se fa cazzi strani sono cazzi suoi non ha mai fatto propaganda il fatto della rassicurazione per quanto riguarda poteva essere uno scherzo quando è arrivata anche a me una comunicazione di un suo personaggio che lavora con lui adesso non voglio fare nomi anche se comunque lo conosci anche io ho avuto il dubbio dato che tu e cattivissimi mi avete fottuto due telefoni mi avete messo sul sito di incontri con il mio numero di telefono e tutta Europa cercava di telefonarmi mostrandomi come posso dire le parti intime dato che ero messo come sotto forma di una bella ragazza da una parte avete creato canali e l'avete creato insieme alle informazioni che cattivissime aveva di me perché lo pensavo un amico io per un amico faccio ogni cosa ma mi se ne ero sul conto che dopo invece di essere un amico si è dimostrato un pazzo degenerato e ho avuto meme e tutto quello che si poteva avere per potermi buttare giù ho capito che tu vuoi farmi terra bruciata però sai tutta questa tua sicurezza questa sua spocchia hai bisogno di una lezione di umiltà e vedo che Dio cerca di unire le nostre strade e incrociarle poi ha dei disegni strani il Signore ma sicuramente a parte ringraziare i danni della disponibilità e del fatto che poi quando anch'io abbio quelle incertezze di un ennesimo scherzo stronzo di tuo del tuo amichetto incappucciato che ormai è finito nel baratro che si è parzentato a Danny con altri nomi e con altre diciture io non ho fatto altro che avere l'assicurazione gentilissimamente proprio da lui il fatto che una persona magari probabilmente gli è arrivato voce distorta o che so io non mi sono mai occupato di Danny Lazzarino a parte in un paio di uscite secondo me infelici in una giornata dove magari potevo essere infelice anch'io siamo umani mai toccando l'aspetto economico finanziario e di capacità per quanto riguarda il fitness perché ho sempre detto e lo ripeto per l'ennesima volta qui due tre fisici e mentalità possono stare su questo tubo il resto sono truffatori venditori di nulla pallisti che imboniscono i ragazzini questo faccio io invece tu fai altre cose tu ti adegui il sistema pulisci le mutande delle persone che fino a ieri hai puntato il dito e sei un opportunista stratega non ti vedo tanto stratega ripeto è stato molto gentile e poi le cogli persone come dice lui giustamente anche se sei giovane bisogna conoscere di persona per vedere tante volte qualcuno someone plays some character cioè qualcuno cerca di giocare con il personaggio non giocare al cinefilo che non è roba tua archi al tuo freccio al tuo ciao freccio al tuo arco non ne hai per cui stai tranquillo che ci prima o poi ci si incontrerà riusciremo a parlare sono solamente felicissimo che Danny di persona con un video a me abbia invitato per primo mi tengo questa soddisfazione da bambino piccolo e stronzo ok ciao Danny